Eccoci, dinanzi a te, glorioso Apostolo San Giuda, per offrirti l'omaggio della nostra devozione, e del nostro amore, tu fai amolosamente sentire, a quanti ti invocano il tuo potente aiuto e patrocinio, e come non si avana la fiducia riposta, nella bontà del tuo cuore. Appunto per questo noi ti offriamo, l'omaggio della nostra devozione, memori dei favori già ricevuti, e pieni di gratitudine per l'assistenza concessa, ma nello stesso tempo, ci sentiamo spinti a supplicarti, che non cessi mai il tuo aiuto e protezione. Tu che fosti legato da vincoli di parentela, e da particolarissimo amore al Redentore Divino Gesù, fonte di ogni bene, ottienici le grazie a noi necessarie per condurre una vita santa, ed impetraci anche quelle benedizioni, che siano segno della Divina Compiacenza. Dio benedica! Per tua intercessione! O caro Santo Apostolo! I fedeli che ti onorano e promuovono il tuo culto! Quanti spinti dal tuo esempio lavorano! Per la gloria ed il bene delle anime! Che quanti ti pregano e tra questi anch'io! Sentano in cuore di essere esauditi! E la grazia Divina scenda a corroborare la debolezza di tutti! Affinché amando e servendo l'infinita maestà e bontà Divina! Ci sia concessa la Corona ed il Gaudio dei Servi fedeli! Amen! Padre nostro che sei nei Cieli! Sia santificato il tuo nome! Venga il tuo regno! Sia fatta la tua volontà! Come in cielo così in terra! Dacci oggi il nostro pane quotidiano! Rimetti a noi i nostri debiti! Come noi li rimettiamo ai nostri debitori! E non ci indurre in tentazione! Ma liberaci dal male! Amen! Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te! Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù! Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori! Adesso e nell'ora della nostra morte! Amen! Gloria al Padre! Al Figlio! E allo Spirito Santo! Come era nel principio! Ora e sempre! Nei secoli dei secoli! Amen!